Carissimi tutti, desidero comunicarvi che anche quest'anno il nostro ufficio, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, parteciperà e sarà presente a Giobb Orienta, che è il più accreditato salone dedicato all'orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro, che si interrerà a Verona dal 22 al 25 novembre prossimo. Lo faremo con una vetrina virtuale, ma anche con una partecipazione attiva, con un programma di convegni, di stimoli per tutti, eventi destinati a studenti, genitori e personale scolastico. Desidero quindi invitarvi a partecipare a questa 32esima edizione, che si presenta con una nuova e grande opportunità. Sarà un'occasione per acquisire informazioni, strumenti per orientarsi, ma soprattutto per svolgere una scelta consapevole per il proprio futuro, sia per il proseguimento degli studi o per accedere al mondo del lavoro. Vi esorto dunque a essere presenti a questa rassegna espositiva, che è dedicata alle scuole, ma non solo, ma saranno presenti accademie, università, enti di formazione, ITS, agenzie dei servizi per il lavoro, imprese, associazioni di settori e di categoria, per seguire un articolato programma, che vederà tanti ospiti, tanti ospiti eccellenti, testimoniano importanti e di spicco. Quindi non mi resta che aggiungere ed augurare a tutti voi un buon job. Grazie a tutti.